Ciao, sono Stefano Marazzi e volevo invitarvi all'edizione 2014 di Batterica, la più grande manifestazione che c'è in Italia per quanto riguarda batterie e percussioni, i migliori espositori di strumenti del mondo e tutti i batteristi più forti e poi ce sto pure io che vi esibisco con la Lucy Soul Band, vi aspetto tutti quanti Stefano Marazzi a Batterica 2014! Chi ha fatto la vernacchia? C'è stato detto, visto va eh!